L'ufficio stampa è un ottimo strumento per aumentare la nostra visibilità o fare conoscere il nostro brand con un percepito diverso o un messaggio diverso. È un professionista dell'informazione che si rivolge a un target preciso, i giornalisti, e ogni giornalista ha una sua esigenza diversa, a seconda che siano i quotidiani, la stampa specializzata, oppure quella di attualità o di approfondimento, o anche la stampa online o quella radio-televisiva. E consente anche di avere dei benefici indiretti molto importanti. Il primo è quello di consentire di conoscersi meglio. Il produttore infatti è troppo coinvolto per individuare quali sono le notizie più interessanti che interessano gli altri. Quindi mettersi dall'altra parte è un lavoro che l'ufficio stampa fa quotidianamente. Solo se noi ci rendiamo interessanti i giornalisti parleranno di noi. Quindi anzitutto ci consente di fare un'analisi interna per ottenerne un racconto organico e una sorta di carta d'identità scritta con linguaggio giornalistico, che si chiama cartella stampa. Inoltre l'avvantaggio dell'ufficio stampa è anche quello di dare la possibilità interna all'azienda di parlare tutti lo stesso linguaggio, quindi adottare gli stessi numeri, sia per quanto riguarda per esempio il numero di bottiglie prodotte, il numero di ettari, perché spesso può succedere che la parte commerciale dia dei numeri non esattamente consonanti con quelli che sono i numeri dati per esempio dalla proprietà. E infine consente di avere un rafforzamento del messaggio aziendale. Se tutti parlano la stessa lingua, che si tratti di chi si occupa delle visite in azienda, della segreteria o appunto del commerciale o la proprietà, questo messaggio ne uscirà rafforzato. Grazie. 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 Grazie.